Questo è l'abaco piccolo, con i tuoi perline in base di valore A5 e con i tuoi perline in base di valore 10. Questo è la paleografia, di valore 10 in corsivo. Questo è la paleografia, di valore 10 in corsivo, in cui è stata scritta la diminuzione di una riga. Questo è la paleografia, di valore 10 in corsivo, in cui è stata scritta la diminuzione di due riga. Questo è la paleografia, di valore 5, modificato con la scrittura corsiva. Questo è la paleografia, di valore 6, con la scrittura corsiva. Questo è la paleografia, di valore 7. Il numero 7 si scrive disegnando prima la sbarra dell'abaco, ed esso era modificato con la scrittura corsiva. Questo è il valore di un angolo. Il valore di due angoli. Il valore di tre angoli. Il valore di quattro angoli, modificato con la scrittura corsiva.